L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, parliamo di tagli sulle pensioni da gennaio 2020, soprattutto tagli per quanto riguarda gli invalidi alle vedove, quindi gli assegni di reversibilità per chi ha perso un conice e per l'invalidità. Per gli invalidi verrà corrisposto il 75% del totale per entrate da lavoro precedente pari a 4 volte il trattamento minimo, quindi per quanto riguarda l'invalidità. Se invece parliamo e l'invalido percepisce un reddito che supera 5 volte il trattamento minimo, riceverà un assegno pari al 50% anche di meno del valore assoluto. Per quanto riguarda poi invece, abbiamo detto la reversibilità che ha perso un conice, le riduzioni dell'assegno anche in presenza di reddito di IRPF, quindi chiaramente accumulabile, corrisposto un assegno pari al 25% con un reddito che supera 4 volte il minimo fissato dalla presenza sociale, quindi che è il minimo a 26.700 euro, 40% con un reddito entro 5 volte il minimo, 33.480 euro giù di lì, 50% se il reddito supera 5 volte il minimo, eccetera, quindi un nuovo piano previdenziale, soprattutto per quanto riguarda anche le vedove che percepiscono uno stipendio o una propria pensione, vedono ridotto la reversibilità dal 60% addirittura al 30%, quindi già questo di per sé sta diventando sia per i disabili che per quanto riguarda la reversibilità una vergogna, se poi noi a prescindere che parliamo di PD, non PD o 5 stelle, poi cominciamo, ci sono le tasse, poi i tagli li facciamo sulle classi meno abbienti, siamo alla frutta, ma comunque aggiungiamo questa piccola chicca che fa anche un po' ridere, le rivalutazioni, i nuovi ricalcoli sugli assegni gennaio 2020, 97% per le pensione superiore a 3 volte il minimo e inferiore al 4, 77% per i importi tra i 4 e i 5 volte il minimo e 52% tra 5 e 6 volte il minimo, eccetera, eccetera. Stato e quindi la previdenza sociale si scanneranno da questo punto di vista e c'è da dire che lo Stato addirittura potrebbe fare una grazia per portare quel 97% al 100%, si fa un po' ridere, per le pensione superiore a 3 volte il minimo e inferiore a 4, quindi questi pensionati riceveranno un qualcosa in più in queste famose pensioni, 2-3 euro in più, 3 euro in più, e quindi signori che cosa volete che commenti? Fa un po' ridere, quindi sono delle briciole, io penso che, vedete, poi dicono che io sono contro Salvini, sono contro uno o un altro, cioè io non faccio differenza, semplicemente io credo che leggere questi dati sia paradossale, assurdo, vergognoso per il nuovo anno, perché poi, ripeto, tu alle tasse aggiungi anche questi tipi di dati, penso che c'è da rimanere un attimino allucinati, sbalorditi, interdetti, l'artista esistenzialista, buonasera da tutti.